I tuoi figli stanno tanto tempo sotto la doccia? I clienti del tuo hotel sprecano acqua quando si lavano? Arelia lancia sul mercato il suo economizzatore di docce universale. Si tratta di un temporizzatore elettronico programmabile, la cui funzione è limitare il tempo massimo della doccia, trascorso il quale la centralina chiude il rubinetto durante i minuti programmati, generando risparmi di acqua e gas non inferiori al 40%. Non richiede lavori ed è facile da installare. Specialmente raccomandabile per case con adolescenti, appartamenti turistici, hotel, palestre e campeggi. Arelia. Innovazioni in arrivo.